Beh, sono tutti poco frequenti. Andiamo su serio. No, no, hanno cambiato molto. Stiamo scherzando, questo deve essere uno scherzo. Cioè, i suoi modelli non li hanno cambiati. Mi sembra che World of Warcraft ha donato i suoi modelli, ma qua stiamo scherzando. Wow. Ah, ok, puoi avere tutte le classi. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ah. Ah, hai capito, ho capito. Guarda, se volevano tentare... Ah, poi il livello massimo è 120. Perfetto, questo vuol dire che forse avrò qualche possibilità in più di farmi tutto. Ma... Chi lo può dire? Questo gioco non è che... Sembra così. Eh, un altro istante o il 20. Ok, questa è la gilda più... pixel. Anzi, devo farmi un attimo i calcoli per l'armatura, tessi spade normali. Anzi, no, ho visto che già ne tengo una. Cioè, aspetta una... comenta anterarmi. Ah, non ho la spada non... Così, c'è tanto che ho, io sono solo una spada lunga, minimo, quindi sono... 400... Per 10... 1,4 mila. guardiano di draghi aspetta, non ne manca uno spara? ha lo scudo? ah no, lo scudo era era dall'armatura mi confondo sempre metto insanguinato cinquecento infatti ci sono cinque mila lo scudo è quattrocento quattro mila mi stavano bene nove quattro quattro mila allora sai che rottura di palmo wow sta uno del a livello venti puoi già passare da un da un all'altro impossibile questo non ha manco l'armatura anzi ora ho notato una cosa non io mi ricordavo che stavano un sacco di spammeroni in piazza che sia davvero cambiato qualcosa in questo zocco mai tu non mi hai appena dato una spada tu non mi hai appena dato una spada che è oppri per il livello che sono non può essere sessantadu e sessantquattro ma 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 come come che è giusto per bilanzare quel po' sai guarda OP tira e sessantquattro e sessantquattro è livello 2 se me ne frega eh quanta fa sei qua no vabbè no 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 qua è mona qua è mona hanno rotto il dock sai ma come e ho avuto l'ammatura gratis ok che devo fare un altro oggettino del cavolo ma qualcuno ha testato queste modifiche prima di dire si va bene non va bene cioè è vero che lo tengo solo per due settimane ma qualcuno si deve mettere nei panni del giocatore medio che non ha tempo per giocare ma se uno gioca assai questo proprio lo spinge a vorrei sfruttare per bene queste prime due settimane ah si vengono a assigliare no oh una pietra a quest'ora no seriamente chi ha dato i permessi chi ha dato i permessi di fare queste modifiche ah ecco lo sapevo avevo mutato la musica anzi aspetta un attimo io non ho mai avviato il gioco perchè da un attamento è mutato? ma non ricordo di aver usato meeting 2 era quando ho il nuovo computer non ho apprezzo queste non ho apprezzo queste ah 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 ok ho trovato una carta ah ah no ma vendono ci saranno queste carte? sarà vendibili? Se ne raccolgo 24 Se ho solo 12 zone Chiaramente Ce la farò A finire sto evento Non è detto che non ce la faccio Allora Lupo affamato E' caduto internet No Lug del server Ah dai Perché mi fanno danno Se io non so se è stata una ping Dopo tanti anni Se ricomincio Allora Tanto stop Quasi è finito Ok Noi cani selvaggi Continuiamo Continuiamo un attimo L'altra missione Proprio all'inizio Mi dicevo di andare da Qualche piano nella piazza Tauro da gioco Ok Quindi è questo l'evento Ma non sembra Ma non sembra Abbinarsi bene Modello Sbaglio Eccolo là Gli incubo di tutti i giocatori Il fabbro Le collisioni Non si sta Apre pepe Apre pepeere Tanto per a poco Devo tornare a sto fabbro Rompiscatole Ok E abbiamo avuto Un allegino Del cavolo Che duvido Che mi serve Realmente Però Non sai mai Dove sta Il tavolo Che l'avevo Questa stalla Non lo so Lo vedo un po Strano Mi sembra più dettagliato Il libro Che il modello del suo Mi ha messo tutto sul massimo Vabbè Non è solo il fatto Di mettere sul massimo Poi manco Sta tirando Non so se sta Dintoro usando La scheda video Perfettamente Perché Forse No Credo di sì Perché se Praetogens Me lo spinge Anzi Mi spingiassi più Come se fosse Un titolo Odierno Allora Quello voleva Il canister Sta provando Un sito di drago Una fortuna Anzi Visto che Alcuni Ve lo sento Sincera No Mi sono Stai Mettendo 120 20 Non so Vorrei Il tuo fattore profumo Grazie a tutti. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Allora, ma inizio un po' Non credo che... Ah, ecco la seconda, due Due su, ventiquattro Che ne vorrà? E' una pietra a livello 10, quella che vedo là? No, livello 5 Quello che mi serviva No! 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 Porca! 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 Rischiato! Ma sono rischiato Cavoli, quanto manca ancora sta roba? Ah, ecco... E' level up, frate... Ah! E' carta! 3 su qua! 24 Oh, mezzo, 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 mezzo Errore di provocazione No, non è che c'è qualcuno Ho avuto un'armatura migliore Che posso usare il solario dell'onore Errore è finita È finita Ah Ne andiamo tutto, ma Eh, qua sta di sicuro una guida Chi? Cavolo Si è fatto portare Un orso Livello 33 qua Chi? Ma Ma come? Sesto senso Questa è la prima volta che vedo una cosa così Wow Wow Ok, piano avanti sono sul prezzo pieno per quello che sta di differente Crane, se questo stava già e non l'ho mai incontrato perché... Boo Quelli che avevo detto che ammazzavo, il lupio alfa affamato C'è un'armatura non l'ho mai incontrato perché... Un'armatura mai incontrato perché... ... ... andiamo a fare il primo race questo di qua questo mi farà bestemmiare un po fiori di pesca e chi è che c'è già? lupi alfa affamati ok affamato 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 alfa affamato ah sono due gruppi e no? che pecco è quello intermediario? si stavo facendo critici a non finire ancora un gru affamato fatti montare la testa solo perchè è fatto fuori un po di gruppi grigli non ti montare la testa a te chi ne voleva? ah stanno anche i rossi affamati qua bene il 1.3000 che posso un attimo rieutilizzare bene bene altri due poi voleva anche questi dai bru alfa affamati forse non mi ricordo questi due non mi ricordo no quella è il livello ah no è 10 non mi ricordo farsi allarmi sempre farsi allarmi ok poi chissà cosa intende per poco affollato questo gioco attimo non mi fattere sull'ultimo boom e non è abbastanza forte ok ancora quattro per questi poi basta per questa settimana anzi per oggi io vedo per sessioni si ok ok allora stavolta prendi il continuare è meglio che mi prendo due livelli di dettaglio forse non ho il rischio quattromila stavolta 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 quanti e ne sono giganti 58 ok ma Ancora trovare BOOM Ora si parla Ora si discute di Cosa è serio qua Non ho ancora utilizzato le abilità LOL Devo farmi i fottici del drago Appena posso Quello mi serve per queste dannate pietre Vediamo un attimo cosa vogliono da dentro E via 88 punti K Ma eh 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 ovvio qua dubito che Dubito seriamente che D'hanno Dei karma negativi Se da con Quei pochi giocatori che stanno Dai Che senso ha essere un pick up Che 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 Grazie.